Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Il fatto quotidiano titola così, La pace scatena la guerra nel PD e Ciani è vice capogruppo. Che succede? Mi sembra che il PD che è alla ricerca di un'identità ce l'abbia sempre più definita. Io penso che forse dovremmo ritornare a fare quello che un partito deve fare. Noi abbiamo i nostri organismi dirigenti e in quelli si può discutere, tenere una linea. E la linea non è del titolo personale, non si dovrebbe parlare a titolo personale perché tu hai gli spazi per fare la discussione e poi fuori c'è la linea del partito. La linea del partito sull'Ucraina è molto chiara, è quella, non è cambiata, viene ribadita con forza. Mi sembra che anche ieri le precisazioni che il capogruppo Braga ha poi chiesto di fare al suo vice vadano in quella direzione. Perché è stato rimosso da Luca? Allora, io questo non lo so, mi dispiace però, perché o fai un cambio complessivo dell'Ufficio di Presidenza, cosa assolutamente legittima, normale, cambiato capogruppo, possono cambiare anche i membri dell'Ufficio di Presidenza, se però mantieni tutti e togli uno sembra che la scelta sia proprio ad persona. e Piero non se lo merita perché è bravo. Allora, io non riesco a capire, è il cognome? Diciamo sì, è il riferimento al padre. E quindi è sbagliato, perché se è il cognome è sbagliato. Perché Piero De Luca si occupa di politiche europee da tantissimo tempo, ha una grande competenza, è uno che si dà da fare e che secondo me ha sempre lavorato bene. Io questo devo dire perché lo conosco. Quindi l'immagine che si è data è di voler attaccare lui e secondo me è proprio un'immagine sbagliata. Angela, cosa sta accadendo?